Francesco Di Nardo del Chuck City dopo la riapertura delle sale Rocca San Giovanni si riparte anche con il cinema all'aperto. Siamo a Lanciano al Parco delle Arti Musicali. Sì, anche quest'anno grazie alla collaborazione del Comune di Lanciano siamo riusciti a organizzare un'arena veramente ricca. Saranno 45 le proiezioni quest'anno, quindi diciamo che abbiamo quintuplicato la programmazione rispetto all'anno passato, spalmate su 29 giorni che andranno orientativamente dal 29 giugno, non tutti i giorni, al 17 agosto. Quindi è un programma ricchissimo e altra novità di quest'anno saranno le due proiezioni. Quindi faremo in alcuni giorni selezionati, trovate tutto il programma sul nostro sito e sui canali social, in alcuni giorni ci sarà una proiezione per famiglie e bambini alle 8.45 e poi alle 10.45 un film più per adulti. Esatto, sempre di sera e sempre al calar del sole per adulti. Quindi è una programmazione molto più variegata rispetto agli altri anni. Dobbiamo dire che la location è suggestiva. La location è fantastica, già sperimentata l'anno scorso con l'aiuto del service di venditti che ci viene sempre in soccorso in queste occasioni. Quest'anno il proiettore sarà un proiettore digitale del cinema Chuck City di Lanciano quindi verrà trasferito da lì, quindi la qualità di proiezione sarà eccellente. Abbiamo comunque deciso di mantenere il prezzo popolare di 4 euro per ogni proiezione perché sappiamo qual è il periodo, lo è per noi ma lo è anche per i nostri spettatori. Quindi speriamo che questa scelta sia apprezzata. Quindi si riparte con lo stare insieme, con Gustare un bellissimo film? Beh, assolutamente sì. Come dicevo, veramente per tutti i gusti. Apriremo con il premio Oscar come miglior film straniero, un altro giro, il film danese. Proseguiremo con una serie di Oscar, quindi ci sarà anche Nomadland, The Father, con l'Oscar Anthony Hopkins. Ci saranno due presentazioni con i registi e in un'occasione lo sceneggiatore. Infatti vi invito il 24 luglio alla proiezione di Regina con regista e sceneggiatore. Film presentato al Torino Film Festival e anche candidato ai nastri d'argento. Quindi tante occasioni in questo grande contenitore che è l'arena del Parco delle Arti Musicali.